Perché c'è un sacco di gente in Italia che fa la ola quando le cose non vanno bene. Sono i commentatori, sono una parte degli editorialisti, non sono le opposizioni politiche che è giusto che ci siano. E non sono nemmeno quelli che pensano che il nostro governo non stia facendo bene. È giusto, è legittimo che sia così. È giusto che ci sia chi non è d'accordo. E che cavolo, siamo in democrazia. Però sapete cos'è che fa arrabbiare? Non quando la gente ce l'ha con me o con il mio governo, che è bello, normale e fisiologico che uno possa dire a me voi state antipatici. Ma quando la gente ce l'ha con l'Italia, quando vedo uscire i dati dell'Istat che non vanno, qualche volta va bene, oggi c'è il dato che dopo 31 mesi i consumi dell'energia ripartono. E vedo questi che quando vedono un risultato positivo mettono il broncio. O che fanno una gara per andare sui giornali internazionali e dire no ma in Italia le cose non vanno. O che nel nostro paese raccontano sempre che siamo un paese di cervelli all'estero. Come noi che restiamo in Italia fossimo una banda di rimbambiti. Dice loro sono cervelli all'estero, noi siamo i pancreas rimasti in Italia. Cioè è una cosa allucinante. Quando vedo la gente che fa l'ola per le cose che non vanno, mi domando ma come era lo spirito di quelli che hanno fatto l'Italia? Ho visto ora l'azienda di Anzani e ne ho viste altre quotidianamente nel giro che faccio in Italia. Ma come era lo spirito di chi ha costruito le vostre aziende? E' gente che si è tirata sulle maniche, si è rimboccata le maniche della camicia, ha smesso di lamentarsi magari anche a mezza bocca, c'era qualcosa da ridire, ma le cose le ha cambiate. Perché? Perché l'Italia è molto più grande del racconto negativo che fanno alcuni. Allora la cosa che vi propongo è noi faremo tutto ciò che serve in legge di stabilità durante l'Expo, nei prossimi mesi. Noi lo faremo alla nostra parte. Ma aiutiamoci insieme, perché qui in ballo non c'è la carriera politica di chi sta al governo, chi se ne frega di quelli che stanno al governo. Qui c'è in ballo l'Italia e la scommessa è quella di dare una mano all'Italia che ci sta provando. Poi quelli che vogliono lamentarsi continuino pure a lamentarsi. Noi salveremo l'Italia anche per loro. E dopo toccherà ai nostri figli poter vivere finalmente in un paese in cui il futuro sarà più grande persino del nostro passato. In bocca al lupo e buon salone del mobile a tutti!